ragazze e ragazzi rieccoci qua su alis proseguiamo a dove ce l'hanno lasciati l'episodio scorso abbiamo affrontato un po' di non lo so si un labirinto con qualche enigma insomma qualcosa di un po' di diverso dal solito oltre a battere i nemici come un po' adesso ci sono queste fasi un po' platform vediamo vediamo eccolo lì ok vediamo io ho paura che no prende prende meno male pura che non mi prende è ancora c'è ancora sto labirinto terminabile ti ho visto ok morirà dai dammi qua dammi qua meno male alla fine il gioco comunque ci ha premiato con quest'arma che insomma decisamente è forte è forte ce la stiamo cavando abbastanza bene abbastanza ah pensavo che era un nemico non c'è nessuno no questo è lo stregatto qui trappole chi mi ha preso io vado eh ah vai no porca vacca eh ci siamo uccisi a vicenda aspetta aspetta allora qua non si vede nessuno adesso faccio così guarda carico ecco ok mi sa tutto ma qua c'è lui ok ok vai passato aspetta un attimo visto che adesso siamo passati eh sì adesso lo sto salvando finalmente sono entrato un po' nella modalità di salvare spesso meno male un po' eh non troppo ok meno male qui c'è la statua del cappellaio che è schiattato ok dammi tutto vai attenzione qua appena 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 oh un portale ci buttiamo ma macchina macchinatio eh guarda non ne parliamo eh ecco un'altra fase platform gira la testa vediamo così qua adesso qui facciamo così facciamo così aspetta eh mi sono ah mi sono ucciso da solo vediamo è andato però no no non mi ha lasciato non mi ha lasciato il cuore aspetta e non ci arrivo aspetta ah ah se cadiamo ripartiamo da qui scusa oh scusa forse di là no ah ecco ok vai aspetta un attimo al centro mi sembra che gira un po' meno eh no devo stare lì devo stare lì adesso ritorniamo lì questo qui ci alziamo abbastanza ok ok oddio no aspetta a caso oh eh mi ha ucciso comunque non moriamo se cadiamo interessante eh aspetta ma li facciamo perché prima ci siamo praticamente uccisi da soli ok aspetta qua lui no oh questo ma che cavolo oh madonna se no gira veramente la testa cioè così ah tu la devi finire di sparare ecco ma mi ammazza un'altra volta perché sto aspettando che scenda maledizione eh mi aspetta no rifacciamo troppo poca vita un attimo aspetta così adesso facciamo così facciamo così lo uccidiamo ok così e carichiamo e io salvo qua saliamo qua saliamo qua andiamo di qua saltiamo hop ok oh adesso qua ce n'è uno provvediamo a seccare ok oh bene salviamo allora qui oh pet così così ok ok qua stiamo scendendo stiamo salendo ok 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 mamma mia certo che ok così salvo diventassi anche un percorso del genere inizio cioè tutto bello intricato aspetta 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 che salga aspettiamo facciamo così ok ecco boh è andato giù però no eh cazzo eh no non riesco a prenderlo allora qua fa che ce n'è uno lì vabbè io salvo ho visto un robottino ok ok e di qua dove vado ah vado lì ok oh da qua salto lì ok ok poi qui salto qua pure aspetta no è cavolo cavolo no troppo vai che tanto così ah mi metto aspetta ok salvo così non mi devo rifare pezzettino ok facciamo così madonna pensavo di essere troppo avanti aspetta ma sì no cioè ma davvero ma sei fuori scusa eh no sbagliato perché tanto ho salvato adesso ricarico aspetta cioè io non lo so dov'è che a parte che non lo uccidiamo purtroppo è lì in alto il maledetto cioè ha sparato a raffico subito cioè guarda caracca cioè no devo essere veloce mi sa qua perché comunque non riesci no anche se avevamo forse la la barra piena non riuscivi a mirarlo come fai devi essere veloce a calcolare i tempi aspetta ok vado non lo so vado a istinto eh vado qua sì vabbè ma che cavolo c'è eh forse da qua no neanche troppo lontano non ci arriva non ci arriva comunque ha una sua portata aspetta il questo scettro magico qui bastone cioè davvero già è complicato no eh già è complicato muoversi qua così poi ci mettono pure quello sparacannonate cioè aspetta un attimo diciamo poi per di più inseguono sti cosi eh ok e da qua dove vado ah forse qui aspetta no vado mi sono schiacciato forse no devo uscire a scavare il carro adesso appena no madonna c'è accadono ste cose no ma dai ma vai su madonna io se non prendo la rincorsa aspetta ok eh se non prendi la rincorsa si ferma lì e ciao aspetta che qua faccio così faccio così vado ok adesso salvo qui così non mi faccio sto pezzettino che è andato anche bene devo dire qua saltiamo qui eh prima sono finito schiacciato qua aspetta non so se è giusto sì vai nel portale ecco c'è ignorato totalmente ignorato ma ma ancora quello dai grifone fai qualcosa a te insomma tagli la testa c'è c'è scusa non era un alleato forte quello lì ecco 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 oh madonna aspetta eh spariamo a loro che non serve un attimo devo ribattere quello lì aspetta aspetta facciamo salva così almeno ok non taglio il filmato ah i robottini sono andati via aspetta avrà molta vita immagino dov'è oddio no guarda che si incastra e allora dov'è vabbè niente ce l'ho alle calcagna cioè non si dà fuoco da solo visto che non so donna non vedo niente di là di là eh io provo a fare zigzag però adesso sto qua tre anni che abbiamo dei alleati che fanno cagare vabbè e ole ma si bruciami beh altronde non possiamo usare neanche nessun'altra arma è l'unica che vola ma è tutta lì la 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 sua forza eh perché se solo sta terra stava a terra e avevamo ma anche con la barra vuota donna riuscivo ad andare a prendere sti cosini era non dico una gagata però oh l'ho preso allora adesso che mi sembra andar bene salvo ok sembra andar bene eh abbiamo appena salvato carica oh oh aspetta ok no eh coltello si devo salvare appena appena riesco a fargli un po' male dov'è ah là che agonia che agonia dov'è 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 qui eh mi ha preso uguale dov'è oh là donna ma basta con sto fuoco so madonna mi ero bloccato mi sa ehi ok 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 aspetta oh l'ho preso aspetta salvo ok madonna forse ha smesso di fare il fuoco aspetta aspetta forse no no e ciao continua c'è c'era il grifone che mi ha intralciato grazie ecco a parte che non eri così vicino quando ho salvato eh devo dire devo dire a cagare aspetta e e e ok ok mi ha preso un po' la madonna oh c'è aspetta dammi lontano questo coso sciolta praticamente vedo niente vacca vacca e niente grazie madonna a parte che ogni volta cambia eh cioè così sembra così mi sembra oh bravo vai la però ha smesso di volare adesso eh no male cioè salta no guarda guarda dov'è vai cavolo vai spariamo sto raggio morto morto oh grazie yeah you've destroyed her guardian alice and avenged my death enter the ultimate battle must I fight on can't the red queen be persuaded to surrender true words and logic rarely defeat evil intent she is still strong and so many have been harmed they want revenge which we call justice she made this world and she must pay you must lead our forces against her I'm not sure I know how to lead do your best you can only do your best you can always do best c'è e muore pure vabbè era fortissimo eh così mi han detto beh e niente è morto così vabbè aspetta che mi prendo salvo subito salvo subito ok ascolta cioè è morto è morto è morto così vabbè ok tanto che c'era o non c'era non cambia niente voglio dire no gli scacchi sono tornati ah si stanno menando ok no uè scusate ma vado a prendere il cuore posso vabbè mi ha spinto giù e vabbè eh carichiamo ah adesso quei due di prima non ci sono più guarda è di più eh madonna cioè scusate cioè proprio me la state facendo sudare eh arrivano in diecimila anzi anzi scusate soprattutto ho in mente una cosa ecco un po' bruciate amorevolmente eh ok non sono ah uno è morto perfetto ok anche un altro è morto mi sa bene questo non ha più la testa attenzione anche questo oh via e che cavolo fammi ricaricare oh molto bene aspetta sappiamo adesso che sono carico al massimo eh cavolo beh ok così grazie eh cioè inizia non ce l'ha nessuno orca manca non posso fare due metri adesso sono sti due che vabbè ok ok c'è sti due niente di che salviamo mi obbligano salvare ogni due secondi cioè appaiono dal nulla ah cioè si lanciano così senza paracadute no ne è rimasto uno no aspetta io vado eh ok aspetta vai vai siamo passati eh lo sapevo non è morto eh arrivano a pioggia tipo cioè non basta neanche questo eh sono rimasti quelli indietro eh perforge dai mi fanno apposta aspetta allora faccio così guarda dove sono questo facciamo così via via se riesco a passare forse ok ecco forza via salvo eh mi obbligate a fare così se no non ce la caviamo più guarda 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 madonna le bombe mi hanno tenuto dentro madonna ok no vita ok date via ok siamo alle porte dell'inferno altro che castello la regina non so ascensione ok 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 qua dove devo andare no c'è qualcuno che già mi spara qua non ci arriviamo ah aspetta madonna ok ma porca racca davvero oh è esploso grazie va che c'è il suo amico qua ok facciamo così ok non lo so aspetta facciamo così ah di lì di lì aspetta ma no ma di qui dove sono arrivato cavolo devo salire ok questo è chiaro spero spero scusa scusa qua c'erano dei nemici ah qui madonna mica l'avevo vista pensa a te qua si confonde tutto sembra un intestino via sparo dritto buonanotte buonanotte morti tutti ok ok no volevo prendere il cuore vabbè ma l'avevo salvato qui mi pare si no ma si confonde la stra vabbè allora io sono cretino ditelo ditelo pure ok ok no ma mi raccomando il colore ecco se venite qua avanti così magari il cuore i cuori li prendo bene non sarebbe male ok va va questo qua è all'interno di una bestia si aspetta qua ah qua ci sono aspetta no aspetta usiamo il coltello contro questi va dov'è andato beh oppure ecco stanno morti no vabbè allora ma non è possibile scusa perché non sono morti ascolta mette rotto le balle vai ho guardato tutto qua c'era uno eccolo prendo così e buonanotte aspetta qua non so se ci arrivo ok ci arrivavo immagino di qua che questi poi indicano comunque la via ah c'è la modalità debone no ma aspetta cioè dove non serve secondo me qua non serve te la mettono ecco forse mi sa che devo andare lì ecco qua se beh qua oddio questi qua muoiono subito magari quello lì ok eh ma sì ma con quest'arma non serve più poi tanto eh guarda lì cioè magari contro i boss o sì ok ok dai salva grazie per la sorpresa ma lui non si è mosso quindi ecco prendiamo tutto madonna mori ah c'è il suo amico là in alto spero sia morto ok saliamo ok ma che schifo cioè persino con sta grafica mi fa schifo voglio dire che sono fatti bene eh eeeh sì sì tutti belli in fila aspetta da qui da qui ok dai che non replicano ho finito ho finito aspetta muori muori oh oh qua dietro salvo guarda come bombardano no porta aperta ok aspetta eh vai 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 prendi sto cuore giù 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 calma aspetta sono messi proprio sono nascosti diciamo questo qua poi lui va bene ok il problema che è è finito troppo lontano è troppo lontano che è ah già questo qua era aspetta la modalità mostro sì oddio ma per aumentare la velocità aiuto ehi cos'è vado c'è cast rip c'è per fatti scavalcare tutti praticamente infatti fatti vedere no non ci credo sono finito proprio vabbè aspetta 8 tu dammi tutto non cadere dentro per favore ok ah però come ho detto ci conviene morire una volta almeno alcuni nemici vengono tolti dove è sta regina ok che è sto bombardamento intanto ho salvato adesso proprio tu muori ah è morto è morto è morto è volato dove aspetta qua ci sono il cappellaio jabber walk come si chiama e i due due matti del manicomio cavacca cavacca va che eh non ho abbastanza magia aspetta aspetta cerca di attaccarmi corpo a corpo eh no allora qua facciamo così quello via aprite sta porta ok ok stavolta diciamo è andata meglio aspetta che prendo questo sono quei due davanti alla leva aspetta cavolo aspetta vediamo se riusciamo a ammazzarlo col coltello e risparmiamo un po' di aspetta un attimo che c'era uno impazzito ok aspetta fallino fatto un dovinello mi sa è uno specchio è immagino si può si può attirare più volte aspetta così invece e vedi che è diverso eh no devo girarlo provo a girarlo un'altra volta aspettate è tre ore su qualche giro perché c'è un'altra area qui c'è una porta bo la non lo so non ho risolto vabbè di vedere di qua dammi tutto qua si apre no vediamo di qui c'è qualcun altro ok qui si ha qui si è aperto oddio mi devo distruggere facciamo così ah forse ho distrutto il quadro aspetta tre po' aspetta forse ho capito si però che roba cioè devo madonna io pensavo che devo fare qualcosa la invece per fare qualcosa la devo venire fin qua guarda ce n'è un altro dammi tutto meno ma è ho deciso di spostarmi ho girato tre ore lì dentro ho detto torniamo qua a vedere non so e infatti va il cuore si ok ok ah ho distrutto quello giusto ok quindi si allora devo a seconda diciamo dell'exbox e xbox xbox devo distruggere la raffigurazione giusta quindi adesso questo è fiori prima ho detto picche mi sa vabbè fiori eccolo che è devo vedere la porta giusta questa ok e quindi devo distruggere lui no ok e torno indietro adesso manca l'ultimo immagino che si siano ricreati pareva eh ma questi forse vengono messi anche apposta per ridarti la magia ok magia e vita ok ma manca l'ultimo e forse dopo si apre la porta ok e su ok di di qua ok era era lui era lui ok e si ha aperta la porta molto bene eh è raborioso sto sto enigma stiamo parlando della regina poterla incontrare ci vuole qualcosa di ecco grazie di laborioso però aspetta ok ho sparato la dove vai stai fermo ok ok la porta è salvo è un po' che non salvo se no devo rifare tutto ok ok grazie 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 ma no ma dai era quello più simpatico di tutti lo strega c'è c'è aveva anche una bella voce ah oddio beh facciamo fuori ok ma che ce n'è uno qua madonna però mi sono già scaricato aspetta madonna ma è bruttissima oddio oddio aspetta madonna aspetta salvo 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 ok e la la madonna e mo e mo ah ok si ricreano attenzione ormai ci sono le colonne allora devo andare di qua dai riformati preso oh oh mi sta attirando ah non mi ha fatto niente aspetta no 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 ma non vale i poteri psichici tè vabbè mi abbraccia ogni tanto e poi ok madonna e vabbè e vabbè con questo non la becco mai non fa niente aia vado di la aia stiamo qui stiamo qui dai che si riforma eccolo te brucia 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 oh oh questa mossa aspetta forse se sto madonna se sto in copertura non può attirarmi a sé mi sa eh aia ah di la di la preso ok preso mi sposto aspetta vai ok ok eccolo ok eccolo eh peccato che eh ok basta spostarsi al momento giusto ok va che lo fa aspetta ok eccolo qui poi cavolo ho mancato attenzione attenzione via vado 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 fa partire a razzo aspetta dai dai ok eccolo non troppo vicino non è che la becco no dammi dammi questo ahia eh sta ferma adesso aspetta che salvo ok che mi sa che siamo nella fase 2 secondo me vado ok mi muovo vado vado che vedi che sta ferma per lo più oh neanche se sta ferma vabbè ecco quello a fare no ho mancato il cosino pet attenzione aspettiamo aspettiamo no ah ma ok ok ho capito ho capito aspetti vabbè intanto mi abbraccia e poi mi esatto ecco non è che faccia chissà che cosa con con quell'abbraccio non dimmi che cioè è morta così? è il boss più facile del gioco praticamente ho fatto una fatica boia con gli altri ancora viva mh I rule Wonderland alone. Your interference will not be tolerated. This realm is for grown-ups. Raw, well-ordered, ruthless, careening on the jagged edge of reality. Self-pitying dreamers are not wanted here. They cannot survive here. You fear the truth. You live in shadows. Your pathetic attempts to reclaim your sanity have failed. Retreat to the sterile safety of your safety delusions or risk inevitable annihilation. If you destroy me, you destroy yourself. Leave now, and some hollow part of you may survive. Stay, and I will break you down. You will lose yourself forever! Madonna... Ah, forse questo è il suo vero aspetto. Eh... Ok... Salvo... Dammi qua. Ti colpisco in testa. Eh... Eh... Beh... Non saprei. Ok... Ok... Qua c'è qualcosa... Aspetta... Eh... Però qua... Ah, ok... Poi... No, ridammi... Ah, mi ha tolto la magia? Scusa... No, con da... Oh, ok... 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 Sì, comunque sei orrenda, fatelo dire. Altra parte di me... Cioè... Sonti bella io. Mi sembrava strano Che fosse così facile Allora Aspetta Non so che non ho capito Io la continuo a colpire Poi non lo so Mi sembra che non gli faccio nulla Inizia l'aiuto Aia Andiamo qua Madonna Non capisco Continuo a colpire Ma Ma Sì ma che caro Però mi toglie la magia Non c'è Ah no Guarda Aspetta Forse non gli stavo facendo niente Invece Non lo so Che adesso ho notato Andiamo Ok Mi sa che non gli stavo facendo nulla Porca Vacca Madonna No Vado Giù un attimo Aspetta Aspetta No Madonna Madonna Andiamo Colpiamo 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 Devo distruggere i tentacoli Aspetta Torna su Grazie Sei troppo vicino Poi mi togli la magia Io me ne vado Ok Andiamo Ok No 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 dai Stavo andando bene Per mirare i tentacoli Aspetta Ok Uno Impossibile che No È in un colpo solo Non riusciamo Pogliagliene due Adesso faccio così Non vado A prendere L'arma No Troppo vicino Non vado A prendere L'arma Giusto Si Non scoppia Porca Ok Ok Me ne vado Porca Vacca Ma dai Me lo fa Apposta Ok Gli ho distrutto Tre tentacoli Adesso lo prendo Non l'avevo ancora Preso Aspetta Non so cosa è successo Un attimo Un attimo Carico Carico E via Aspetta Adesso arriviamo di là Aspetta Aspetta Salvo Eh si Eh si Eh si No E lui Aspetta Ma mi sposto Manca solo Quello Credo di sì Poi c'è anche Quello Madonna Ho sparato Tutto Io Manca la testa Cosa manca La base No Ma no Porca Castimissi Aspetta Tanto ho salvato Eh ho salvato Col coltello Ho salvato Aspetta Ok Allora La E qua Forse Non mi sembra Gli sto facendo Molto Non capisco Se è la base O Aspetta Ok No Ok Salvo Prendo tutto Non lo so Lo saprei Sembra che Qualcosa Gli sto facendo Cioè vedo Il Solito Non so Non so Come chiamarlo Non è Non è fuoco Vabbè Quello è un po' Viola Ok Adesso che ho Tutto al massimo Direi che È il momento giusto È lì Vedo Spero di fargli qualcosa Madonna Madonna Vado Vai su Ok Vita Vita Mi ha preso Qualcosa Eh questo Questo fuoco qua Sembra fuoco Ma non è fuoco Eh mi ha ucciso Però ho salvato 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 Ok Ok Ho fatto abbastanza male Cavolo Mi ha preso Allora Facciamo così No No Ok Ok Dai Andiamo a spingere Scusa Cosa Cosa Mi ha ammazzato Non si è capito Cosa 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 Qua Devo andare avanti Ok Così Senza fermarmi Ok Guarda Anche se non lo prendo Fa niente Mi sposto Si sta girando Ok Guarda guarda Faccio il giro Aia Cavolo Prego paura di cadere Aspetta Ok No Dai muori Aspetta Andiamo Spostiamoci Aspetta Aspetta Salvo Ok Andiamo Nessun colpito Da solo Ah ecco Non la vedevo No Sta mossa Non mi piace Ok No Eh Wizz Non ce la faccio Più Ah Con i tasti Vieni Cavolo Che ho appena Appena salvato Cioè Boh Provo a colpirla In basso Non saprei Ho in testa Non lo so Boh Quei tentacoli Mi sa Guarda che L'abbiamo passato Da parte a parte E' andata Vado Esplosa Ok Quindi Ah Così Boom Vabbè Guardate Partono i titoli Di coda Basta Vabbè Ok Senza avvisare Ok Ok Ragazzi Ragazzi Siamo giunti Alla fine Di questo gioco Allora Che dire Beh Meno male Diciamo in un certo senso Sono riuscito Sì a trovare La La mod HD Comunque L'ha reso un po' più bello Da vedere Visto comunque Ha 20 anni Anzi 21 21 anni Come gioco Uscito Certamente Uscito In quegli anni Anni 2000 Era difficile Tuttora Però E' Difficile Gioco Decisamente Difficile Però Certe situazioni Un po' studiate Un po' male Ma Penso che fosse Una cosa Comunque Comune In quegli anni In quegli anni Cioè Il gioco Lo facevano In una determinata Maniera Stop Non stavano Tanto a guardare La comodità E non la comodità Anche perché Erano ancora Se vogliamo Dico gli inizi Perché comunque Videogiochi Ce ne sono Dagli anni Ottanta Però Forse Gli inizi Dell'epoca Moderna Ecco Diciamo Del videogioco Quindi Appunto Non Non essendoci Neanche nulla Con cui Il giocatore Potesse In qualche maniera Far sapere Che una cosa Non andava bene Lo facevano così E stop E stop Non mi è dispiaciuto Smanettare Quindi non ho voluto Capita Senza stare troppo A Chiederti Perché Per come Però Mi è stato detto Che Si riuscirà A capire qualcosa Nel seguito Praticamente In Alice Madness Returns Ah I tuoi di quella Sono finiti Basta Basta E ci Si venne rimandati Al menu Vai Quello che ho capito Praticamente Secondo me Cioè Lei Ha subito Appunto Un trauma È andata a fuoco La casa Non ho ben capito Se è per colpa sua O meno Non saprei Però ha subito Sto trauma È finita In un manicomio Si incolpa Di quello che è accaduto E secondo me Quello che abbiamo vissuto Era tutto Nella nostra testa Anche se Lei Forse viaggiava Già prima Dell'incendio Faceva questi viaggi Mentali Appunto Nel Paese delle Meraviglie Però allora Prima dell'incendio Il Paese delle Meraviglie Era Magino Colorato E normale Bello Gioioso Come forse Lo conosciamo Anche se io La favola Di Alice Il Paese delle Meraviglie Non Non la conosco molto E non mi piace neanche Quindi Proprio non mi sono mai interessato Fin da piccolo Però poi Causa Incendio Lei si incolpa Di quello che è successo Finisce nel manicomio E quindi il suo mondo Diciamo Si trasforma Praticamente I suoi vecchi amici Non sono più Come erano prima Anzi Alla fine Muoiono tutti Praticamente Pure lo stregatto Non me l'aspettavo E degli altri Sì Cioè mi andava anche bene Se vogliamo Però Stregatto Era simpatico In certa maniera Vabbè Sì Visto che ho iniziato questo Sicuramente porterò il secondo Non so se subito dopo Non lo so Devo vedere Con le altre serie Quei in ballo Anche perché Quando voi vedete questo episodio Sicuramente avrò nel mente Iniziato altro Tra tutti Persona 5 Strikers Quindi Vediamo Vediamo un po' Un po' com'è Ecco Mi ha fatto smadonnare Non poco Devo dire Però Ce l'abbiamo fatto L'abbiamo finito Come sempre Va bene Ragazze e ragazzi No Mi sembra Siete stati molto interessati Da quello che ho visto Totalmente Spiazzato Perché Essendo già un gioco Da vecchio Cioè retro gaming Proprio retro gaming In più Penso sia molto Molto di nicchia Molto particolare Che hanno inserito Un po' di tutto Alla fine Un po' di platform Combattimenti Anche se molto Basilari Basilari E scomodi Tra l'altro Sì Molto di nicchia Molto di nicchia Molto particolare Però Mi sembra che vi sia piaciuto Da quello che ho visto Mi fa piacere Sono sorpreso Devo dire Va bene Non vi trattengo Oltre Spero che la serie Vi sia piaciuta Noi ci risentiamo Al prossimo video Ciao a tutti Ragazze e ragazze Ciao a tutti Ciao a tutti